E' un po' più grande, non sono i due ore! Ah c'è un termine! E' un migliora di cosa? Prodata la professione, finita il Kung Fu! Kung Fu Panda 2, sabato alle 21 e 20, ricolo, sulta l'unfo! Ma come può il Kung Fu fermare? Una cosa che ferma il Kung Fu! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.